In questo video cercheremo di capire quali sono le principali differenze tra lavorare in un'agenzia oppure in un'azienda. Partiamo dal primo dei due contesti, l'agenzia. Che ambiente è l'agenzia? Beh l'agenzia è un ambiente in continuo fermento assolutamente, perché? Perché comunque hai e avrà a che fare con molti colleghi, con molti clienti e con molte aziende di molti mercati diversi. Quest'enorme varietà di stimoli a cui sarei sottoposto sicuramente farà sì che tu sia costretto a dover imparare molto velocemente e quindi la tua crescita professionale probabilmente all'interno di un contesto dell'agenzia sarà estremamente rapida. D'altra parte però poi anche all'interno di un'agenzia c'è anche l'importante vantaggio di poter avere una job position, quindi una mansione continuamente in cambiamento che di conseguenza ti darà anche l'opportunità di poter fare una carriera abbastanza rapida in questo senso. Gli svantaggi però. L'agenzia è un ambiente abbastanza crudele da questo punto di vista, è un ambiente in cui c'è un alto turnover, questo bisogna considerarlo. Perché c'è un alto turnover? Perché le pressioni sono molto alte. Tante aziende, clienti della tua agenzia che hanno scadenze, obiettivi finali mensili da rispettare, target, di solito tendono a trasferire questo tipo di tensioni ai provider, quindi alle agenzie che lavorano per conto loro. Di conseguenza il personale all'interno delle agenzie è spesso sotto pressione per i risultati di fine mese da raggiungere, per quel problema che magari si è verificato che all'ultimo momento bisogna risolvere e sicuramente questo è un aspetto da considerare. L'altra cosa che dovrai considerare è il fatto che il prezzo da pagare sono anche gli orari di lavoro, spesso non perfettamente prevedibili e di solito piuttosto importanti come orari di lavoro perché la grande quantità di clienti e le loro aspettative faranno sì che ci sia sempre l'urgenza dell'ultimo giorno, dell'ultimo minuto da dover gestire, quindi sicuramente ne dovrai tenere in considerazione. Vediamo il secondo contesto, quello dell'azienda. Qui stiamo parlando in un ambiente molto più, come dire, anche un po' più tranquillo, stabile, poi dipende chiaramente in che azienda andiamo a finire, ma tendenzialmente le aziende sono dei sistemi più statici in cui di conseguenza la certezza del proprio posto di lavoro è meno messa in discussione, quindi sicuramente avrai una maggior sicurezza nella certezza del tuo posto di lavoro e accanto a questo spesso potrai portarti dietro anche un brand di un'azienda in cui lavori che di solito gode di maggior prestigio rispetto a quello magari sconosciuto di una web agency. Infine un ultimo grande vantaggio direi orari di lavoro un po' più ordinari e più prevedibili e contenuti da questo punto di vista. Non tutt'erò quello che luccica però perché comunque anche all'interno di una grande azienda c'è qualche svantaggio da tenere in considerazione. Quali sono questi svantaggi? Beh, prima di tutto il fatto che hai meno opportunità di imparare perché sei meno messo in discussione e la velocità con cui cambiano le cose in azienda è un po' inferiore, motivo per cui ci vorrà più tempo perché tu possa prendere delle nuove situazioni. L'altra cosa poi che dovrai tenere in considerazione è che spesso le grandi aziende, soprattutto le multinazionali, sono degli ambienti più formali in cui è più difficile stabilire delle relazioni umane qualitativamente valide e qualitativamente di fiducia da questo punto di vista. Questo per alcuni di noi può essere un punto di disagio diciamo da questo punto di vista, poi chiaramente dipende dal tuo carattere. Infine l'ultima cosa che dovrai considerare nel lavorare in azienda è il fatto che le aziende, soprattutto le grandi, sono fatti di tempi decisionali piuttosto ampi e grande burocrazia, quindi dalla decisione alla realizzazione e all'azione spesso passa molto tempo e questo può essere per chi ha un particolare talento e particolarmente esplosivo dal punto di vista dell'iniziativa può essere a volte frustrante, quindi sicuramente lo dovrai considerare. Bene, io direi che in realtà non c'è una risposta giusta a meglio lavorare da una parte o dall'altra, però ognuno di voi credo che saprà trovare la propria strada. In bocca al lupo!